Ragazzi è l'ultimo giorno per rompere le scatte dei vostri genitori per comprare la maglietta dei 100.000 iscritti o la felpa Mi raccomando fatevi fare sto regalo di Natale perché è molto importante Vi seguirò su Instagram, qua sono in descrizione, mi raccomando, magliette e felpa dei 100.000 iscritti, è l'ultimo giorno Ciao ragazzi, ben tornati in questo nuovo video della vanilla, siamo nel 128esimo Quindi bentornati in questa serie che vi sta prendendo veramente tantissimo e vi ringrazio di cuore Come detto oggi abbiamo due mondi, quello che utilizzo in creative per buildare prima di andare nella vanilla è il mio attuale Perché prima di tutto andiamo in questo mondo perché nello scorso episodio alla fine vi ho detto farò il timelapse della casa che voglio costruire stile medievale Però di per sé è venuto il timore che non potesse piacere, quindi l'ho voluta costruire un mondo in creative a parte per farvela vedere E appunto è venuta una roba più o meno del genere, l'ho voluta fare più medievale possibile, più scialla, più tranquilla, con un po' di endesite Vari dettagli e come sempre legno di spruce con una sua stradina che a me piace veramente un sa Fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi perché se vi piace c'è la possibilità che magari potrei iniziare a costruire una specie di villaggetto appunto in questa zona Con questo stile qua è nella mia mente l'idea di creare una roba del genere per i villager che vivrebbero in questa zona e che dovrebbero occuparsi appunto della super mob farm Super mob farm che ho quasi ultimato appunto nel mondo quello vero 3 ore di timelapse che adesso vedrete Quindi vi invito a lasciare un bel like perché affidatevi a registrare 3 ore di timelapse è qualcosa di veramente molto pesante Quindi vi chiedo di superare 2.500 like, so che non l'ho mai chiesti per la vanilla, è un numero veramente alto ma ve li chiedo perché ora parte un timelapse veramente assurdo Anche con la città Intanto rientriamo sul nostro vero mondo della vanilla dopo aver visto quel timelapse Mi spiace, da subito vi chiedo scusa se lagga Però ragazzi eccoci qua con queste tre bestie atomiche Qualcosa di veramente enorme Io però non ho un letto in questa zona Quindi mi sa che devo tornare un attimino a casa mia in quella vera, in quella reale In quella che non torniamo da un sacco di tempo Correre subito di fretta perché dobbiamo dormire A meno che dov'è la luna? No ancora su in alto, niente Appena sale il giorno vi faccio vedere cosa diamine ho costruito Vi è piaciuto il timelapse comunque eh ragazzi Io spero davvero che vi sia piaciuto perché oltre ad aver imporato via tantissimo tempo Ho imporato via anche tante ma tante sbatti Intanto scriviamo il nostro bellissimo 118 Guidati, costruire una roba del genere Poi essere attento a ogni dettaglio, le altezze giuste a tutte quante robe È veramente molto difficile Però nel prossimo episodio faremo tutti quanti i filtri per i mob In più se notate, se avete notato nel timelapse Manca una zona di costruzione Intanto noi veniamo qua perché Voglio vedere se abbiamo dell'altro spruce wood Perché ne abbiamo bisogno? Ok, i spruce ne abbiamo qua E qua? Sei pezzettini così, va bene Qua niente di spruce wood, no Infatti Comunque dicevo, manca solo una parte perché volevo chiedervi Se andiamo là, poi ve lo chiedo perché Se no non capite niente Altro giro, altro nether Voglio entrare nel buco con l'elitra No, non ce l'ho fatta Allora, per prima cosa è qualcosa di veramente enorme E c'è da togliere questa specie di stradina qua Che mi ha concesso di arrivare al centro di ogni cosa Io non ci sono arrivato neanche io so come Comunque saliamo un attimino prima qua sopra Perché ci sono da togliere anche tutte quante si lantern Perché se no dà un effetto veramente orrendo E come notate ho fatto 3 di 4 mob spawner Perché ho in mente l'ultimo di farlo un pelo più basso E rendere quello solamente una specie di zona di mob spawn Dove farmo un po' di esperienza Voi direte, Marco ma tu di farmare l'esperienza Non hai bisogno, visto che hai la farm del nether dragon E io vi direi Ragazzi avete ragione Solo che all'interno di queste costruzioni Alla fine farei una roba del genere giusto per completezza Perché fai una zona del genere E non fai una specie di mob spawner Per l'esperienza E secondo me ragazzi ci sta Non è una bruttissima idea Come notate questi qua sono tutti quanti stati fatti Di prismarine brick Tranne quello lì che ha ancora della prismarine normale Era perché comunque ai tempi Non avendo ancora la farmia di guardian Che vi ha permesso di fare tutti quanti questi blocchi Dovevo un attimino stare attento E contare tutti quanti i blocchi che utilizzavo E adesso non mi dovrei neanche più fare di questi problemi Però da parte vostra Vorrei sapere se l'idea di fare Piuttosto che 5, 3 mob spawner Lì vi piace Io sono più di questa idea Per differenziarli Perché per esempio qua faremo la zonimo spawning Solo per i creeper Lì solo per gli scheletri E gli zombie E lì solo per i ranni Tecnicamente o una roba del genere Adesso non mi ricordo molto bene Come saranno divisi Però in questo episodio Non ci occuperemo di questa cosa Perché oggi ci occuperemo di fare L'interno della casa Che ci ospiterà dentro quella montagna Però prima di tutto voglio distruggere Questo blocco qua di prismarine brick Oddio se ci prendono sopra Non ce la faccio raga Fa niente Lasciamo lì come ricordo E niente Fatemi sapere comunque cosa ne pensate di questa zona Perché mi ha portato via veramente troppo tempo E impegno E però raga Cioè parliamoci chiaro È qualcosa di veramente assurdo E tranquilli Che non è finita qua questa zona Cioè nella vostra mente Potrebbe davvero esserci qualcosa Che è nulla In confronto a quello che io voglio fare Perché questo è soltanto l'inizio Comunque Ora Anzi Facciamo una cosa Che non facciamo mai Che non sfruttiamo mai Che abbiamo costruito Che a me piace veramente un sacco Oddio Ah c'avevo quasi fatta Vai fa niente Comunque Planiamo un attimino qua dentro Qua sono ancora i blocchi Che ho rotto prima Wow Ok raccogliamoli tutti allora Scendiamo qua per questo tunnel Che ho costruito l'altra volta In gran segreto Senza dirvi nulla E che sarà il tunnel Che mi permetterà di raggiungere La parte più alta Della farm So che non è tanto estetico Non è tanto bello Lo ammetto ragazzi Però più che altro è funzionale E mi piace Non è che Anzi Non mi piace Non mi fa impazzire Però è funzionale Ogni tanto le cose funzionali Più che belle Servono nella vanilla Qua lo so che devo modificare il tutto Devo renderlo più spazioso Perché come vedete Lo spazio è veramente poco E a me sta cosa non piace Planiamo all'interno del nostro tunnel Che ha ancora da modificare Tutto quanto per bene Guardate che figata Sembra di entrare al Colosseo Da qua È proprio un proprio bello Abbiamo fatto secondo me Qualcosa di clamoroso Nell'ultimo periodo della vanilla Veramente clamoroso E qua mi è esploso Un creeper Appunto mentre facevo Il timelapse Della costruzione Sono venuto qui A prendere altri blocchi di prismarine E mi è esploso un creeper E non l'ho preso bene ragazzi Assolutamente no Comunque Già che ci siamo Prendiamo un po' di cobblestone Degli stone brick Dove li possiamo avere Qua abbiamo tutto quanto lo spruce Gli stone brick Li abbiamo In una shulker box L'in alto però Sono sicuro di questa cosa Perché quando cercavo I blocchi di prismarine L'altra volta Vediamo se qua Eccoli Li ho trovati Bam Oddio Non è che ne abbia tantissimi Gli stone brick Veramente pochi Però comunque un po' di cobblestone Ce la portiamo Anzi mettiamo via Tutta quanta questa prismarine Che non ci serve E ci mettiamo via Tutta quanta la cobblestone Qua per ora mettiamo Un attimino Eh Cosa mettiamo Mettiamo un attimino Gli stone brick Però mi servono Delle slab di spruce Assolutamente Secondo me però era così Perché se no Non rientriamo nei conti Quindi rompiamo questo bloc qua Di slab Mettiamo questo E poi riprendiamo Gli stone brick Se noi li mettiamo qua così Sì Poi mettiamo qua gli slab Ok Ora è molto meglio Ok funziona Dannati creeper di merda Scusami Eren Però sono fastidiosi Allora Togliamo innanzitutto questo Che abbiamo detto Che era il nostro ingresso Oggi appunto Lavoreremo su questa casa Perché tanti voi mi hanno detto Marco staccati un attimino Della super mob farm E avete ragione Perché l'ho portata Veramente un sacco Abbiamo una chest vuota Eccola qua Mettiamo via Tutta quanta questa cobblestone Dobbiamo fare delle cose Semplici Perché questa zona qui Sarà comunque una zona Veramente molto semplice Quindi ci facciamo una crafting Una porta E la piazziamo Per dirvi Facciamo altre scale E anche scale di stone brick Ne facciamo anche Otto E anche otto di spruce Che voglio fare un attimino Un test Per dirvi Secondo me Questa scala di stone brick Qua ci può stare Ecco da dove spawnano Qua c'è una zona di buio Incredibile Che non ho mai notato Iniziamo a tappezzare Sta roba qua un attimo In silantern Poi ci penseremo In un altro momento A come salvare Questa zona Da creeper e altro Intanto Vediamo se abbiamo De wall Da qualche parte Wall Non credo di averne Però potrei craftarmeli Lo voglio Il più spartano possibile E questa idea Di wall Così mi piace Veramente un sacco Però mi piace Che si collegano A questa parte qua Di muro Di per sé Questo carbone Qui fa veramente Schifo Ho messo qua Se magari in questa zona Qui inizassimo Magari a cambiare Un po' di blocchi E metterli Dei stone brick In questo modo Un pochino a caso Potrebbe anche stare Se poi abbiamo trovato Anche dell'andesite Prima Ci può stare Perché cambiamo Almeno un po' L'interno di questa zona Quindi qua un po' Di andesite Ci scappa Perché secondo me L'andesite In questa parte qua È veramente utile Perché guardate Che stacco da Ci sta A me piace Veramente un sacco Quindi potremmo Continuare a utilizzarla Sempre comunque a caso Quindi in questo modo Voglio dare più idee Possive Di che sia una zona Molto manomessa Quindi in questa scala Messa così Secondo me ci sta Un sacco Come mettere magari Anche qui Dell'altra di orite Andesite Non di orite Ok Così cambia Secondo me faccia E bisogna farla Anche da sto lato Come ingresso Questo qui ci sta Ed è cambiato Veramente un sacco Ora pensiamo Un attimino all'entrata Che comunque Voglio una cosa Tutta quanta stretta In questo modo Quindi un bello Scalino così stombri Di sto normale I cobblestone ci sta Mi piace Mi faccio un po' di materiali E torno subito Perché sono veramente a secco Devo fare avanti e dietro ogni volta Ci siamo Abbiamo fatto un bel po' di materiali Come notate E allora Con molta calma Dobbiamo pensare un attimino Come giostrarcela Perché l'ingresso mi piace adesso Così un attimino Un po' più spartano Mi piace Ora L'ingresso della casa Come possiamo dividere questa stanza Possiamo fare una roba del genere Innanzitutto per gli angoli E secondo me Dovremmo scavare ancora Un bel po' Come ingresso ci sta Però devo capire un attimino Da quanto l'ho fatta Sa stanza Cinque Ok Mi piace Che sia dispari Mi piace Dovremmo riproporre questa cosa Che abbiamo fatto lo sassolato Quindi poi comunque dovremmo rientrare E mettere per esempio Il letto qua alla fine Secondo me è una cosa Che potrebbe venire molto bene Di qua Una sea lantern E qua un'altra sea lantern E se facessimo Una stanza in più Verso l'alto Che guarda verso il fuori Una stanza a letto Lì in alto Secondo me ci potrebbe stare Raggiungibile Attraverso una scala Che passa da qua Scala ovviamente molto stretta Cioè noi stiamo costruendo Una nuova base Praticamente ora raga Dovrei fare il pavimento Anche di questa zona Che ovviamente Fa retto quanto Con leno di spruce Sono andato a farmi Uno stack di crackhead stone brick Perché secondo me Messi qua Fanno un bel effetto E ci sta onestamente Per dirvi Ho fatto questa cosa qui Per il pavimento Qua fare una scala Ovviamente Tutta quanto in spruce Così Piazziamo giù un attimino Il letto che mi sono portato Che l'ho fatto nero Quindi tac You may not trust Ben's far Qua perché spawnano Il silverfish What? Che storia è questa? Poca presenza di legno Quello così lavorato In spruce Quindi lo mettiamo noi Un po' in questo modo Un altro di silverfish What? Che bello Ho pensato a questa cosa Quindi se io qua Mettessi delle fornaci Per rendere la zona Più efficiente possibile Ci sta Quindi ci facciamo Otto fornaci Che ci prendiamo al volo E ce le mettiamo lì Più che volentieri Ok Per rendere un attimino Una zona un po' più efficiente Di qua potremmo fare Qualcos'altro Sono andata a casa A prendere queste bookshelf E mi piacciono veramente Un sacco Messe qui Però No Queste stanno veramente male Però secondo me Dei bottoni Lì Stanno veramente bene Bottoni che non c'è neanche bisogno Di andare Fino alla crafting A farli Non vedo che escono i bottoni Di ogni blocco di legno Raga Finalmente Noi li avevamo richiesti Un sacco di tempo fa Se vi ricordate E finalmente Minecraft ci ha ascoltato Grazie di cuore Magari dei altri bottoni Lì ma che belli Qua ci metto del legno Ok Mi piace Mi piace la forma Che sta prendendo questa zona Troppo Continuiamo qua con le scale E saliamo fino a un tot Adesso lo devo vedere Magari parto A fare lo scavo da fuori Per poi rientrare dentro Troche una roba del genere Un buco così Molto piccolo Come ho già detto Con una scalinata Che fa questo giro Ovviamente perché Non deve essere rita Perché per la legge La fisica è impossibile Per fare una scalinata Che risale E vada dritto Però meglio di così Credo che non si possa fare Per questa zona Quindi riprendiamo la nostra porta Rimettiamola al suo posto In questo modo Quindi noi entriamo Abbiamo questa stanza qui Diciamo che è la prima stanza Dove magari metteremo Le cose a cuocere Poi si risale Si sale di qua Si va verso questa zona qua E qua ci sarà la stanza da letto Che potrei fare un attimino al volo E farvi vedere come viene Adesso in questa parte finale Qua di video E credo Che sia veramente finita Ragazzi Ed eccola Qua Come vi ho detto Ho usato un sacco di spruce E un po' di crackhead In questo modo E la vista È veramente bellissima Ho dato anche un po' di Vetro bianco Guardiamo quando andiamo a letto Abbiamo la vista Tutti quanti i mob spawner E il cerchio enorme È qualcosa di troppo figo Il 118 Scusatemi È vero Il 118 Sono andato detto un po' di volte Però comunque il 118 L'abbiamo scritto lo stesso Sì con questa stanza qui Vi saluto e vi ringrazio Vi saluto e vi ringrazio Vi saluto quanto questo è più Vi lascio un bel ecco Un bel commento La migliorerò ovviamente Migliorerò tutto quanto questo Corridore nel prossimo episodio Vedrete già tutto quanto finito È una cosa un po' spartana Sì molto piccolina Molto stretta Però L'ho voluta fare appunto Piccolina Questione di logica Non volevo fare niente di troppo grande Qua manca una roba Manca un Oh Ah no ho finito il legno È vero Vabbè ragazzi La marca è tutto Bella